L'assessorato siciliano con a capo Gucciardi non aveva la più pallida idea fino a questa mattina di quale sia il parere dei ministeri dell'economia e della salute sul decreto di accorpamento tra l'IRCS Polino Puleio e l'ex ospedale Piemonte. A rispondere il capo di gabinetto dell'assessorato Marina Valli che avrebbe dovuto informarsi nei meandri del governo centrale. La responsabile ha anche affermato la notifica della commissione sanità sul vaglio del decreto è pervenuta solo questa mattina dopo otto giorni. Neanche il presidente dello stesso organo legislativo Pippo Di Giacomo sapeva cosa stesse succedendo nell'assessorato competente. Intanto il centro Neurolesi e l'azienda Papardo sono le uniche strutture sanitarie a non possedere le piante organiche ratificate dal ministero della salute. Il Papardo l'ha potuta inviare solo all'amministrazione Crocetta mentre l'IRCS non l'ha ancora potuta presentare. Le attività dell'ex presidio Piemonte stanno toccando il minimo storico ma il management del nosocomio della zona nord continua a pagare gli stipendi dei relativi dipendenti. Il direttore generale del Papardo Michele Vullo ventila di poter denunciare un danno erariale alla procura in mancanza del decreto presidenziale di accorpamento. Si dilatano a vista d'occhio i tempi per emanarlo mentre i pericoli per lo svolgimento delle funzioni per l'area d'emergenza urgenza sono palpabili all'orizzonte. Il personale e la strumentazione medica del Papardo sarebbero pronti ad essere trasferiti all'IRCS dopo l'espletamento di alcune prassi burocratiche ma senza il decreto non si arriva da nessuna parte solo allo stallo. Il passivo economico del Papardo nel 2015 è di 2 milioni di euro tra entrate e attività del Piemonte e si proietta verso un aumento senza la comparsa del polo d'eccellenza.